Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Nello scorso episodio, dopo aver salvato Ma dalle grinfie di Daphne, abbiamo recuperato gli ultimi due Spark di Proxima Arsuria. Con l'aiuto dell'astromeccanica abbiamo potenziato anche l'astronave e ora possiamo raggiungere la fortezza di Cursa. Come avete visto nella brevissima intro all'inizio del video, abbiamo praticamente recuperato abbastanza cristalli per poter raggiungere Cursa e la sua fortezza. Quindi oggi direi di dirigerci immediatamente lì. Eccoci qua. E quella là è la fortezza di Cursa. Sono d'accordo con te, Gini. Possiamo usare lo sfondascudi adesso? Per piacere? Rabbid Luigi non vede l'ora di sfogarsi. Che poi in realtà la fortezza di Cursa è praticamente la ex-fortezza di Rosalinda, praticamente. Mamma mia, che potenza! Ok, lo scudo è andato. Ma quello è l'osservatorio Cometa di Rosalinda? Che sta succedendo, Gini? Le coordinate sono chiare. L'osservatorio è l'epicentro dell'energia di Oscuro Iperio che si sta diffondendo nella galassia. Va bene. Ecco, guardate il bracere dell'osservatorio Cometa. È da lì che si accede al cuore della dimensione dello scudo Iperio. Prendere il controllo di Rosalinda non le bastava? Ha dovuto anche fare tutto questo a casa sua, simbolo di speranza per l'intera galassia. Eh, che ti devo dire, Bipo? Mamma mia! Siamo qui, Rosalinda! Siamo qui! Guardate che casino! Ma sbaglio o... Wow! Che atterraggio d'emergenza! Beh, la nostra nave non potrà avvicinarsi più di così all'osservatorio Cometa, ma noi sì! Grazie ai cannoni. Ma comunque vedo che... Sono presenti tanti elementi... Dobbiamo arrivare a quello più grande e da lì a Rosalinda! Va bene, Bipo. Dicevo, sono presenti tanti elementi importanti che abbiamo già incontrato negli altri mondi. Per esempio il faro, per esempio l'elica... Quanto sono vicini a Corsa, c'è da scommettere che siano molto pericolose. Beh, ma non ti preoccupare, Gini, ci pensiamo noi. Ah sì? Vuol dire che manderemo i frantumi le sicurezze di Corsa come faremmo con un vaso prezioso in mezzo a un trasloco. Siamo gente pericolosa, noi! Esatto, Bipo, esatto. No, dicevo, c'è anche la pianta di terraflora. È una specie di mondo molto particolare. Vediamo se posso comprare qualcosa. Se lui vende roba interessante. Ok, allora guarda, ti prendo... Un... Tre blocchi POW. Poi ho bisogno di questo. Di questo. Questo è scontato, ne approfitto. E direi che così può andar bene. Magari prendiamo anche cinque funghetti, va? Ok, quattro perché non ho abbastanza monete. Allora, questa è la prima pozza re dello scutiferio. Vediamo un attimo, eh. Ma... Ma... Che caspita... Bowser? Perché Bowser? Re dello scutiferio. Sconfiggi Bowser dello scutiferio. Quindi è una copia dell'originale, questo qua. Allora, siamo in quattro. Mi sa che sarà parecchio tosto, eh, da buttar giù. Me lo chiedo anch'io, Bipo. Corsa è legata al Megabug. Quello che avete già conosciuto nelle vostre precedenti avventure. Va bene. E quindi condivide i suoi ricordi, dai quali ha attinto, per ricreare Bowser. Ok, quindi è proprio una copia. Il Megabug ha preso il controllo di Bowser, come se fosse una marionetta. Ma se via poco, venne sconfitto e pure male, di fronte a Bowser Jr. Ricordi, Bowser. Penso che non se lo sia dimenticato. Non è possibile attacco di Bowser. Ci serve aiuto. Anzi, tre aiuti. Facciamo quattro, va. Bipo, facciamo quattro. Allora, vediamo un attimo, con la visuale tattica, chi dobbiamo affrontare. A parte i gomba, che va bene, li possiamo sconfiggere facilmente. Abbiamo Kamek, che è resistente praticamente a tutto. Poi Bowser, invece, è resistente al fuoco. Quindi non conviene colpirlo con attacchi di fuoco. E basta. Diamo un'occhiata alla gestione squadra. Allora, per quanto riguarda gli Sparks, direi che quelli che ho selezionato possono andare bene. Allora, tuffiamoci in battaglia. Non posso curare la squadra perché non ho abbastanza monete. Direi che va bene così, allora. La cura immediatamente così, Rabbit Peach, guardate. Con uno dei suoi attacchi. E siamo a posto. Allora. Bowser può nascondersi qui dietro e attaccare direttamente Kamek. Scivolata ventosa. Vabbè, ma a questo punto scusate, eh. Facciamo così. E li ho già eliminati. Il problema è che non può nascondersi. Proviamo a mandare qua Mario. Bowser, lo mettiamo. Ah no, lì dietro non può stare lì dietro. Mi colpisco da solo? Ok, non mi sono danneggiato però. Meno male. Usiamo l'artigliato. Però te lo evoco proprio qua davanti, così non deve fare troppi chilometri. Buonissimo. E poi gli diamo il colpo di grazia. Però... Facciamo così, perché vorrei poter muovere ancora un pochettino Mario. Sì, 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 sì. Ottimo, ottimo. Va bene. Usiamo la piattaforma. Altro salto. E Rabbit Peach la mandiamo qui. Così possiamo già colpire il Bowser dello scutiferio. Buono. Accidenti ha 20.000 punti salute. E... Vabbè, evochiamo anche un avvelenatore. Più alleati abbiamo sul campo di battaglia meglio è. Un mirino. Così siamo praticamente in sette. Bravo. Elimina i Gombas. Mario può fare un altro salto team. Grandissimo. Qua. Attacco elettrico. Niente. Volevo... Volevo colpire... I due Gombas che ci sono là in fondo. Uno... E due. Mandiamo Edge da questa parte. Bravissima. E mi colpisci il loro tre. Passiamo il turno. Dobbiamo concentrare comunque i nostri attacchi su Bowser, eh. Dai, Kamek. Accidenti. Ah. Perché fa danno a zona. Purtroppo. Fa danno a zona. Cosa fa? Accidenti. No. Questi affari qua no. Ti prego. Meno male che siamo in alto e quindi non ci possono colpire. Allora, spostiamo gli eroi. Mario, per esempio, possiamo mandarlo dietro a Bowser in modo che lo distragga. Però mi sa che da qui non lo prendiamo. Possiamo prendere Kamek, però. Eh, ma Kamek è resistente all'elettricità, mi sa. Sì, infatti. È fastidiosissimo perché è resistente praticamente a tutto. E se provi a muoverti, ti colpisco con la vista dell'eroe. Poi, tocca ad Edge. Che può andare a prendere lui. Uno. Due. Tre. Posso raggiungere Mario. E ho ancora il salto, eh. Salto team da poter fare. Però direi... Che ci possiamo posizionare qua. Con... Turbo carica. E poi... Ti colpisco. Non posso fare nient'altro, purtroppo. A meno che... No, beh, oddio. Posso... Sì, posso colpirlo. Speriamo di riuscire a eliminarlo. Grande! Così, Edge. Non dico che sia al sicuro, ma... Almeno può stare un attimo tranquilla. Ci converrebbe far così, eh. Mmm... No, vabbè, fermi tutti. Così li prendiamo tutti quanti. Che casino! Mamma mia, che casino! E possiamo colpire anche Bowser. Vai! Vai! Ok. Passiamo il turno. Accidenti, Kamek! Guardalo! Come viene a trovarmi, Edge? No! Bravo, bravo. Vai da quella parte. Vai da quella parte. Oddio, va da Mario. Accidenti. Mamma mia, che male! Però si è avvicinato, eh. Allora, voi tre, via. Perché mi state dando molto fastidio. Ehm... Non posso fare salti. Non posso fare niente. Potrei spostare Bowser da questa parte, però. Mmm... Devo cercare di... Fare un salto team. A parte che mi conviene... Far così. Timer recupero. E poi... Invece con Bowser, utilizziamo... Aumento movimento. Sì, però... Ti sei posizionato comunque... Male. Dovrei riuscire a raggiungere il tubo, eh. Forse. Spero di sì. Sì! Per un pelo. E mi sono anche curato leggermente. Ok. Allora, ZR. Così curiamo i nostri. Poi... Edge. Utilizziamo... Recupero completo. Avviciniamo anche Mario. Così può usufruire della turbo carica. Ah, anche Bowser. No, però Bowser più di così non si può muovere. Turbo carica. E adesso... Scivolata. E l'altra scivolata non la può fare. Ah no! L'ha già fatta. Il Kamek è da quella parte, eh. A parte che il Rabbit Peach non può più fare nulla. Si può riparare qui dietro. Bowser potrebbe provare a disturbare quel Kamek dall'altra parte. In questo modo. Che botta! Poi tocca a Mario. Ottimo lavoro. Bowser lì dietro, eh. A parte che con l'attacco che utilizza... Mi prende da qualsiasi posizione. E... Facciamo così. Riprendiamo un attimo. Rabbit Peach. Perché voglio raggiungere quel Kamek là in fondo. Uno. Due. E la terza scivolata... È per Bowser. Ecco fatto. E dove mi riparo? Mi riparo qui dietro. Ah, però non posso attaccare. Eh... No. Allora non posso più fare nulla. Soltanto... La vista dell'eroe per Mario. Vai. No. Sì, meno male. Eh... Nen tanto. Ahia. Ahia. Meno male che non fa malissimo Bowser. Cioè, è pericoloso... Però... Non così tanto. Guarda che scappa. Fifone. Uno. Due. Ti avveleno. Ti avveleno. Ok, mi sono danneggiato anch'io. E non posso scappare da qui però. Allora. Quello è da distruggere. No, ma dai. Non ci si può avvicinare. Scivolata. Poi possiamo andare dall'altra parte. Sì, 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 sì. E qui posso colpirlo. Ma va. Mi nascondo qui dietro, va. Poi, evochiamo un mirino. Pensavo di averne già evocato uno prima, ma... Probabilmente mi sono sbagliato. bravissimo. Poi tocca a Edge. Lei può fare tre scivolate, eh. Uno. Due. Ed ecco la terza. Poi scappo via. Mi rifugio qui dietro. E lo posso colpire. Ed è che stiamo andando bene. Stiamo andando molto bene. Ancora 2861 punti. Bowser potrebbe dare il colpo di grazia a quel portale. Forse. Non l'ha distrutto, ma pazienza. No, lo può distruggere. Lo può distruggere con questi affari qua. No. Stanno ignorando completamente il portale. Vabbè, peccato. Visto dell'eroe. E devo ancora muovere qualcuno. Rabbit Peach. Però sinceramente preferirei curarti, eh. E chiudiamo così. Prossimo turno mi sa che ce la facciamo a eliminare Bowser. Accidenti. Guarda come scappano i Kamek. Aia. Povera Rabbit Peach. Mamma mia, quanti... Quanti gombas. Allora, sono apparsi due portali. Io però direi di attaccare... Senza pietà Bowser. Dovrebbe essere là in fondo. Sì, 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 riesco ad avvicinarmi. Eh, però non lo colpisco. Proviamo a fare una cosa. Salgo su. Utilizziamo... Aumento movimento. Vabbè, la scivolata ve la faccio molto volentieri. Così almeno due di voi mi salutano. Non mi aspettavo cinque gombas. Poi... Edge, avvicinati. Colpiamolo. Ce l'abbiamo fatta! Dai! Potevo anche evitare di utilizzare quell'oggetto. E tenerlo da parte per una battaglia futura. Vabbè, pazienza. Volevo essere sicuro di sconfiggere Bowser dello scutiferio. Il primo cannone è libero. Possiamo raggiungere la seconda pozza di Oscudipe. Vai. Beh, alla fine non... Se riusciamo a liberarci anche di quella, avremo via libera per il cannone principale e per l'osservatorio com'è. Va bene. Dicevo, alla fine non l'ho trovata così difficile come... come missione. Ah, prendiamo le astroschegge. Andiamo da questa parte. Entriamo nel cannone. Opla. Allora, vediamo un attimo. Ah, così torniamo indietro. Padrona dello scutiferio. Attenzione. Ehi là, attenzione! Edge dello scutiferio, veramente? Padrona dello scutiferio. Attenzione, non me l'aspettavo. Sconfiggi Edge dello scutiferio. La mappa è completamente diversa. Siamo di nuovo in quattro. Corsa non sa nulla di me. Ma sarà mia premura spiegarglielo. Non c'è modo di convincere Edge a fare un passo indietro. Sarà in prima fila in questo scontro. Ci servono altri tre eroi se vogliamo darle una mano. Sì, sì, no, va benissimo, va benissimo. Questa squadra qua è perfetta. Devo capire più che altro le debolezze di Edge dello scutiferio. È resistente al fuoco. Vulnerabile al veleno. Vulnerabile al fuoco. Quindi mi servono soprattutto sparks di fuoco e veleno. Quindi gestione squadra. Sparks. Velenova. E la diamo a Bowser. Astrofiamo. Lo diamo a Mario. Poi ce n'è un altro. Eccolo qua. Pyrogeddon. E lo diamo a... A Velena Boss. No, questo qua mi serve. Artiglio Boss. Mirino Boss. A Rabbit Peach. Non posso curare la squadra. Andiamo immediatamente. E utilizziamo subito... Questo attacco. Allora, procediamo da questa parte. Direi di mandarne due a destra e due a sinistra. In modo che si diano una mano a vicenda. Lì c'è già un mirino che ho intenzione di eliminare. Buonasera. Allora. Attacco bruciante. Ecco a te. Guarda come scappa. Ci denti. Non è morto. Ma andiamo. Edge da questa parte. Forse potevo fargli anche la scivolata, eh. Per sicurezza. Eh vabbè. È andata così. Salto team. E poi... Attacco velenoso. Ah, occhio. Perché ce n'è un altro diverso, eh. Gli ho fatto malissimo. Rabbit Peach non si può più muovere. E anche... Edge non si può muovere. Quindi va bene così. Quello là è andato. Aia. Non mi ero accorto di lui. Accidenti. Bisogna eliminarlo velocemente perché è fastidioso. Mi blocca gli attacchi. Così? Guarda come scappa. E vabbè. Quanto sta viaggiando. Guarda che roba. Mamma mia. Ha fatto malissimo a Bowser, eh. Ha fatto malissimo a Bowser. Allora, tu ci saluti. Poi. Ti propongo questo. Ci voleva anche uno Spark del Vento. Ecco, perché tu dai molto fastidio. Non posso attaccarlo. Posso far avvicinare Rabbit Peach. In modo che gli dia il benvenuto. Salve. Salve. R. Almeno facciamo un po' di casino. Non ha quasi più punti salute. Facciamo un saltino da questa parte. E gli do il colpo di grazia. Perfetto. Così non dobbiamo più preoccuparci di nulla. Bisognerebbe cominciare a colpire Edge dello scutiferio. Quindi. Mirino. 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 Che magari così puoi iniziare a farle un po' di danni. Sì, se si nasconde lì dietro non andiamo molto distanti però, eh. Fai così, va? Allora, l'ho sentito ma non mi ha fatto malissimo come attacco. R. Turbo carica. Sono io la Edge originale. Due. E tre. E mi nascondo qui dietro. Poi. Avvelenatore. Ecco qua. Almeno gli blocchiamo gli attacchi, vedete? Curiamo Bowser. Con questo bauletto. Magari lo allontaniamo leggermente, lo mettiamo qua. E poi non può più fare nulla. Forse Mario posso ancora spostarlo. Eh, sì. Sì, 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 sì. Posso utilizzare ancora un attacco se ci riesco. No, niente, vabbè. Finiamo il turno così, va? Ah, occhio perché c'è ancora sto mirino qua, eh. Mmm. L'Edge Fasulla ha sprecato un attacco contro un avvelenatore che tanto posso ricreare tutte le volte che voglio. Comunque è parecchio fastidioso, eh, per lei. Allora, torniamo su. Uno. Due. Tre. Andiamo qui dietro. Quattro. E poi, lama furiosa. Bowser. Mandagli questi qua. Uno. Non capisco perché quello è andato lì. Vabbè, fungeranno da distrazione. Altri 800 punti danno. Ancora 17.000 punti salute. Mamma mia. Ne ha un sacco. Il problema è che è dietro al tubo. Una posizione più scomoda non c'era, eh. Mandiamo su Mario perché tanto Rabbit Peach dovrebbe essere in grado di prenderla allo stesso. Ok. Qui dietro. Dove c'è anche il mirino. E occhio al portale che farà uscire roba comunque pericolosa. Uno. Due. E poi vista dell'eroe. Mi manca soltanto Rabbit Peach. Ah, non la può colpire. E vabbè, la mettiamo qua, va. Ok. Va bene così. No, dai! Sto caspita di mirino. Buonissimo! Guarda quanti danni. Povera Edge. No, un altro di questi qui no, ti prego. Devo, devo eliminarlo subito. Beh, questi qua non sono fastidiosi. Però stiamo attenti perché comunque possono dar fastidio. Altro portale, altri portali. Dobbiamo sbrigarci e eliminare Edge dello scutiferio. Bravissimo. Hai già capito chi puntare. Ancora, un sacco di punti salute. Uno. Due. Tre. Prendiamo un blocco Pau. Te lo lancio addosso. Sono 1450 punti. E poi ti colpisco con la lama. Sì, non gli ho fatto praticamente nulla, ma va bene. Ok. Uno. Ci serve poi Rabbit Peach da questa parte. È resistente al fuoco, giusto? Sì. Allora non mi conviene potenziare l'attacco di Mario. Facciamo così. 1200 punti danno. Non posso utilizzare il... Il cannone, però... Posso fare così. Blocco Pau. Buonissimo. Andiamo qui sotto. Mi fermo qui dietro. Attacchiamo questo qua che è fastidioso. L'altra scivolata invece la teniamo per... La Edge Fasulla. Veleno. E poi dobbiamo curare Bowser. No, dobbiamo curare... Dov'è l'altra Edge? Ah, lì dietro. Allora, torna su. E ci spostiamo da questa parte. Perché sono quelli con... Meno salute. Curiamo anche Mario, già che ci siamo. Ho fatto tutto... Sì. Praticamente sì. ZR. Così appena si muove... Le spariamo addosso. E passiamo il turno. Stiamo andando molto bene. Spacchio al mirino. Eh, sbucheranno fuori un bel po' di nemici. Mi sa che... C'è il rischio che Bowser ci saluti, eh. Aia, aia. Povero Bowser. Aia. Che rischio. Mamma mia, che rischio qua. Ah, Bowser. Eh, me lo uccide, me lo uccide. No, ok. Ha sparato all'altro mirino. Bravo, vai di lì. Allontanati. Protegge i suoi. Quanta salute ha? Edge dello scutiferio. 1315, è fatta! Allora, stiamo attenti. Vabbè. Eh, no, ma tanto è resistente. Quindi facciamo così. No, troppo poco. R. Avrei dovuto utilizzarlo prima, questo Spark. Te l'ho detto che ero io. Ovvero l'originale. La più forte. Ce l'abbiamo fatta. Beh, direi che è andata bene. Non ho perso neanche un... Un eroe. Statue in pezzi. È vero. Devo la mia intera vita a Corsa. Tu eri una Bracca Spark, vero? Non solo. Non una Bracca Spark. Ero a capo di tutte le Bracca Spark. Corsa. Mi ha dato un vantaggio, lasciandomi sufficiente autonomia per dare ordini alle altre. E per pensare. Ma da questa posizione di vantaggio riesco a vedere la reale natura di Corsa. Un pozzo nero di avidità e disperazione. Bracca Spark. Bedrock, Midnight, Daphne. Ho provato a salvarle, ma mi si sono ritorte contro. È così. Sono fuggita. Ho cercato di salvare gli Spark prima che finissero nelle loro mani. Ecco com'è andata. Non avevo mai detto nulla perché immaginavo che non ci fosse un singolo motivo per credermi. No, che non c'è. Non c'è nessuno. Grande, Vipo. Che ci ha aiutato a salvare uno Spark. Uno per ogni volta. Che hai? Beh, che hai preso a calcioni nei denti nemici al nostro fianco. Uno per ogni volta. Che sei rimasto senza parole, mentre combattevamo fissando i miei bicipiti scolpiti. Rabbit Mario. Uno per ogni volta che hai mostrato di tenere ancora alle Bracca Spark. Sei una di noi. Perché vuol dire che non ha senso tenerci nascosto qualcosa. Grazie. Grazie davvero. Voi siete... Ora pensiamo a Corsa. Va bene. Allora ragazzi, abbiamo eliminato quelle due pozze di Oscutiferio. Abbiamo liberato il cannone dorato. Quindi in teoria dobbiamo semplicemente andare ad affrontare Corsa. Direi che però la possiamo magari provare a sconfiggere nel prossimo episodio. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Un bel messaggio nella sezione commenti sotto al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui su Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Alla prossima!